questa settimana che sembra una settimana un po diciamo meno importante che non mancano i grandi maestri grandi film invece una settimana molto importante per il cinema italiano e mi fa piacere dirlo anche al cospetto il sottosegretario che giustamente raccontava quanto sia visto e apprezzato nel mondo il nostro cinema d'autore ma anche il nostro cinema di impegno civile perché il cinema non è il circo non è soltanto l'effetto speciale il cinema racconta anche storie al festival di bari di cui avete giustamente parlato campeggia una bellissima frase il presidente sergio mattarella che dice che il cinema è l'arte che trasmette preservando le storia e memoria da questo punto di vista questa settimana in particolare il film di beppe fiorello a stranezza da muri è un film importantissimo e soprattutto è una scommessa vinta diceva prima correttamente serena utieri anche da collega che apprezza fiorello e lo apprezza per la sua credibilità ebbene dopo 25 anni di attore in ruoli importantissimi facce note del cinema della televisione che tutti ricordiamo bellissime storie ha fatto una grande scommessa ha messo in gioco la sua credibilità verrebbe da dire ma chi me lo fa fare di provare a fare il regista invece stasera mi fa piacere che quando venivo qua mi domandavo io l'ho visto il film in anteprima per la stampa se anche la critica cinematografica così rigorosa che c'è qui valerio caprara in particolare avrebbe superato questo esame no fiorello l'ha superato l'ha superato a pieni voti è un film bellissimo delicato è un film che non è didascalico ma che nel contempo è un film didattico oserei dire pedagogico e rimette al centro del nostro cinema e quindi la nostra società una storia dimenticata ricordiamo che del delitto di giarre è un delitto senza colpivoli